Gianni Galato, l'allora il comandante del Palio di Porto Santo Stefano, siamo a due passi dal Palio e la frebbre sale? Ormai sì, ormai siamo vicini al grande evento. Abbiamo nominato un nuovo direttore tecnico con Fabio Collantoni, è arbitro internazionale di palla a nuoto, quindi una persona che forse potrebbe questa volta mettere d'accordo i rioni. Abbiamo cercato fra i vecchi palianti per dare questo incarico, però sembra che il Palio sia una grande fatica e quando dopo l'hai fatto, se l'hai vinto ti ritiri perché l'hai vinto, se l'hai perso ti ritiri perché l'hai perso e poi sembra che non ne vuoi sapere più. Quindi ci siamo rivolti a una persona al di fuori del Palio sperando che riusciamo a organizzare tutto. Senti Gianni, è il tuo primo Palio da comandante, ma qualcuno ti dice ma chi te l'ha fatto fare? Esatto, chi me l'ha fatto fare? Beh, è una domanda bella questa. Io come ho detto quando ho preso l'incarico è perché nella mia vita non sono per motivi di lavoro, non sono mai riuscito ad affare un Palio e quindi è una cosa che mi era rimasta un po' in gola, come si dice qui da noi. Ho colto la palla al barzo dell'offerta dell'amministrazione per entrare un po' nel vivo della manifestazione però è un impegno veramente, veramente grande. Come al solito i rioni, chi tira a destra, chi tira a sinistra, chi tira a una parte, chi tira a quell'altra ci vuole polso? Sì, ci vuole molto polso e soprattutto per metterli d'accordo perché sono disentito dire no, vedrai che poi dopo. Sono strani perché se loro si accorgono che tre rioni sono d'accordo su una cosa, il quarto non è d'accordo perché pensa che qualcuno gli voglia fregare qualcosa, invece non è così. Difatti anche per questo, questo nuovo direttore tecnico, un po' fuori da dall'ambiente palio ma molto ligio nel far rispettare i regolamenti e lo statuto soprattutto. Quindi spero in bene. Però questo nuovo ente palio diciamo che si è già mosso molto bene con le manifestazioni pre palio. Sì, ci siamo mossi bene, è andata abbastanza bene con la festa di primavera che è stata un successo strepitoso. Nessuno la voleva, noi ci siamo imporsi, l'abbiamo fatta e quello è stato il risultato, con tutti a poppa. Adesso domenica 9 luglio si parte ufficialmente con la consegna dei guzzi che stiamo in questi giorni ravvivando perché i guzzi sono, lo sapete, sono abbastanza vecchi e quindi hanno sempre bisogno di un continuo di manutenzioni, però si può fare. Viola Capitani è il direttore artistico del nuovo, nuovissimo, rinnovato ente palio. Ma che fa il direttore artistico dell'ente palio? Il direttore artistico fa diverse cose dal punto di vista artistico e non solo. Ovviamente intorno al palio ruotano una serie di eventi collaterali che ovviamente hanno bisogno di un supporto, diciamo, di idee che abbiano comunque sia uno sfondo artistico anche, quindi progettiamo eventi che sono già comunque da calendario, ma perché no, non solo da, anche nuovi da fare, diciamo nuovi e nello stesso tempo anche per quanto riguarda tutta la parte coreografica che il palio penso sia il re dal punto di vista artistico della coreografia. Ecco, adesso siamo a due passi dal palio, ma fino ad ora come sono andate le manifestazioni? Benissimo, fino ad ora abbiamo fatto, contiamo già cinque eventi, diciamo, da dicembre, partiamo dal Natale e finiamo con tutti a poppa. Quindi sono andati molto bene, hanno avuto un'ottima partecipazione, sia da parte comunque del paesano che da parte dell'organizzazione dei rioni stessa e quindi non possiamo che essere soddisfatti. Adesso entriamo proprio nel vivo del palio e quindi ci sarà sicuramente da lavorare di più. Ecco, e a due passi dal palio che cosa faremo? Beh, il prossimo evento in programma è forse uno dei più importanti perché è la consegna dei guzzi, quindi ci sarà appunto la presentazione del nuovo manifesto che pubblicizzerà il palio nel territorio e poi l'estrazione di quelli che saranno i guzzi che andranno ai rioni il 15 di agosto. Ma il direttore artistico si può permettere di fare il tifo per qualche rione? Beh, io direi proprio di no, assolutamente. Super partes completamente, non ci credo eh? Non è possibile, perché comunque per una serie di cose è molto difficile, però penso che in quanto avere un nuovo ruolo quel giorno sarà molto particolare perché poi alla fine è proprio il palio che deve vincere secondo me, quindi sicuramente sarà difficile poi nella mia posizione avendo un marito da una parte e avendo un rione comunque di appartenenza sicuramente sarà difficile, però sono convinta che quei 25 minuti saranno difficili ma poi è il palio di Marienaro dell'Argentario a vincere per me. Questi 45 giorni come li vivete a Porto Santo Stefano? No, è bello, per chi è di Porto Santo Stefano è troppo bello perché comunque cominciamo adesso a vedere già da un po', sicuramente già dall'inverno i guzzi a mare che fanno gli allenamenti, però adesso si stanno intensificando quindi fra un po' ci sarà tutta l'allestimento del paese e cominceranno già i tempi, cominceranno già gli sfottò, quindi diciamo che è veramente un'atmosfera molto avvincente. Alessandro Colini, delegato al palio per il Comune di Monte Argentario, eh sì, ormai siamo a due passi dal palio. Sì, veramente due perché il 9 di luglio prossimo ci sarà il primo atto ufficiale, quello vero, quello storico che è la consegna dei battelli o dei guzzi come li chiamiamo noi ai rioni che darà il via al mese, diciamo così, di allenamenti con le barche ufficiali che ci porterà al 15 d'agosto. Quindi insomma quella data è una data un po' spartiacque sia per i rioni ma anche per noi, per l'organizzazione. Ecco, c'è stata un po' di rivoluzioni sia nell'ente palio che nei rioni. Che è successo? Ma l'ente palio è tutto completamente nuovo, diciamo qualcuno della vecchia guardia è rimasto a supportare comunque il nuovo ente palio, è cambiato il capitano, è cambiato due volte il direttore tecnico perché quello che avevamo nominato per motivi familiari si è dimesso, abbiamo nominato un nuovo direttore tecnico, segreteria nuova, addetta al marketing, io faccio sempre il delegato e più intanto stiamo raccogliendo ancora altre persone che verranno a collaborare perché la convinzione di sempre è che un palio forte significa e presuppone un ente palio forte. I rioni anche, qualche rione è andato voglio dire ad elezioni che sono state fatte prima della fine dell'anno scorso dopo palio e comunque nei rioni poi alla fine si entra si esce, sono porte girevoli che danno spirito sempre comunque di continuità a tutti e quattro i rioni. E quale sarà mi confermi che questo sarà l'ultimo palio con questi vecchi guzzi? Diciamoli sì perché oggi proprio oggi viene approvato il bilancio consuntivo dove sono stati stanziati i soldi per le nuove barche, poi da lì c'è la procedura di fare una gara d'evenenza pubblica per assegnare con la nuova progettazione la fattura, la nuova fattura delle nuove barche. In Italia quando si ha a che fare comunque con gli appalti, con le ditte e con le cose è sempre abbastanza problematico dare scadenze certe nel privato è un'altra storia, lo sappiamo, però l'intenzione è quella di che il prossimo sindaco che verrà eletto a giugno prossimo ad agosto inauguri il palio con le barche nuove. Ecco, ultimo palio di questa amministrazione Cerulli, se tu dovessi fare un consuntivo? Molto positivo, dal 2008 che Cerulli è entrato, due mandati consecutivi, crescendo sia dal punto di vista del sostegno al palio ma anche delle manifestazioni collaterali con grande livello raggiunto organizzativo e strutturale. E ovvio sempre si può far meglio, lo staremo a vedere quello che succederà. Siamo cresciuti anche grazie, io lo dico sempre, a quelle che erano le varie collaborazioni vettoriali, le varie idee che sono state messe in campo, supportate dall'amministrazione, dai rioni, dall'ente e anche dalla televisione, perché la televisione a Rezzo TV ha fatto la sua parte bene, non ultima insomma l'invenzione del drone di due anni fa, ripetuta l'anno scorso, ripetuta anche quest'anno e tante altre situazioni che hanno portato tanto vento fresco e forte nel palio. Cosa significa il palio per i santo stefanesi? Definizione sempre molto difficile, diciamo, da dare, perché il palio, dico sempre io, o lo vivi da spettatore, no? E quindi Siena riempie la piazza, va in diretta mondiale, sono state anche fatti dei film, delle situazioni eccetera, però il palio vissuto da contradaiolo, quindi da rionale in questo caso, è un'altra cosa, perché il palio ti toglie il sonno, perché il palio ti fa vibrare la pelle, perché io dico che sempre che quando le quattro barche sono allineate qualche secondo prima dello sparo, a me notoriamente mi manca il fiato anche per respirare, ma perché sono cose che uno ha dentro e difficilmente, non solo si possono spiegare, ma si possono trasmettere a chi è esterno a questa cosa. Che palio sarà quest'anno? Bello, bellissimo, perché è la settantasettima edizione, edizione che potrebbe assegnare un'ulteriore Coppa d'Oro a un rione, quindi quando c'è anno di Coppa d'Oro la fibrillazione è sempre molto alta, tanti auguri a tutti, complimenti a tutti comunque per quello che stanno mettendo in campo e come sempre vinca il migliore. A due passi dal palio, Sindaco Cerulli, Santo Stefano come vive questo momento? Ma diciamo, ancora siamo un po' distanti diciamo così, però già si comincia a parlare di palio, perché in genere tanta gente parla di calcio, poi quando il calcio va in letargo ecco che si parla di palio, quindi ora pian piano ci si avvicina, la settimana prossima daremo questi guzzi, speriamo che questo sia l'ultimo anno per i guzzi vecchi, che poi dal prossimo anno si possa avere i nuovi guzzi, però per quest'anno dobbiamo andare avanti con quelli che ci abbiamo. la tensione sale, come al solito già si dice che la fortezza ancora è forte e favorita, del resto c'è in ballo la Coppa d'Oro, quindi è un altro momento di passione, però del resto vince chi è più forte e se per caso vincono loro c'è poco da fare. Com'è possibile che in un giorno come questo, giovani, meno giovani, tutto il paese si riunisca e faccia quello che fa? Ma è una questione proprio di tradizione, io ho un nipote che ha due anni e mezzo, ma già il babbo l'ha detto che è della croce e lui guai a dirgli forza valle o forza fortezza, no 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 no, forza croce, forza croce, questo è un bimbo di due anni e mezzo, quindi si nasce in questo modo, viene fuori questo sentimento che poi sfocia in quello che è il 15 agosto, che per un non santo stefanese è solo una corsa di barchi che secondo me dice poco in quanto corsa di barchi, perché difficilmente, direi quasi mai c'è l'incidente, direi quasi mai c'è la sorpresa, chi va avanti poi vince, quindi ripeto, è una mezz'ora di tempo che passa per dare un risultato che già dopo 5 minuti si sa quale sarà, però il bello è proprio prima, è il colore, è questo modo di essere vissuti, è un paese in festa, è un paese in accanimento con qualcosa, quindi essere qui penso che anche se uno non è del posto viene trascinato in questo clima e quindi si affessiona anche lui, magari per un giorno solo ovviamente, però è un qualcosa di straordinario. Mentre i santo stefanese il palio lo vivono tutto l'anno non a caso, l'amministrazione Cerulli ha diciamo quasi il pretesto che anche le scuole, i bambini, i piccoli, partecipassero, fossero partecipi di questo evento. Sì, perché il santo stefanese è una tradizione del palio, quindi perché non dico insegnarlo anche alla scuola, però parlarne anche a scuola, perché comunque è un argomento che poi per tutta la vita di un santo stefanese sarà presente, quindi ecco raccontargli anche quali sono state le tradizioni, i personaggi, le varie storie che si sono ormai quasi cent'anni che si fa questa cosa, quindi dobbiamo portare avanti una cosa bella insomma, perché poi alla fine si tratta anche di fare sport insomma e quindi c'è anche il lato proprio sportivo agonistico per cui va tenuto conto, siamo presente che oltre il palio c'è il palietto, quindi quello dei più giovani, ma anche quello ormai il palietto che è nato quasi per caso, per i più piccoli oggi sta diventando importante, io vedo il mio figlio che lo fa, l'allenamento è pesante, insomma però si mette anche un bel fisico a furia di fare queste cose, quindi benvenga anche quello. Arturo Cerulli, per l'ultima volta da quel balcone consegnerai il cencio quest'anno, con quale spirito? Con la paura che dovrò ridare un'altra volta la fortezza, lo dico sinceramente, mi sembra che questa è la terza Coppa d'Oro che gli do, un po' troppo effettivamente, quasi una maledizione, però del resto ripeto non è che possiamo cambiare le carte in tavola, se sono più forti loro, così dicendo che vincono loro li portiamo un po' sfiga, perché è bene anche giocare questa carta, però sembra che anche quest'anno non ce ne sia per nessuno, del resto ci hanno questo capovoca amato ed odiato da chi lo ama e chi lo odia, ovviamente per motivi differenti, però bisogna riconoscerli che questo è veramente bravo, se tutti gli anni trova qualcosa in più per poter vincere, insomma questa è una corsa che tutti gli anni copiano quello che ha fatto l'anno prima, ma lui nel frattempo fa qualcosa di nuovo e già è rivincente l'anno dopo, quindi finché non si ferma ho paura che non ci sia per nessuno. E comunque sia vinca il migliore. Vinca il migliore, l'importante è che anche per quest'anno si riesca a fare un palio sicuro, ancora quest'anno di più c'è da capire quanto sarà problematica l'organizzazione molto più degli anni precedenti, perché dopo gli avvenimenti di Torino sappiamo tutti come la prefettura, la questura, siano molto più attenti, siano molto più le richieste, la sticella sia più altra, la sicurezza, quindi dovremo anche noi apportare degli accorgimenti affinché tutta quella gente che c'è in piazza che non fa niente di male, ma tante volte così succede qualcosa per cui basta che uno gli dà la bomba, la bomba, ecco che diventa il panico, quindi bisogna stare attenti a queste cose, evitarle e cercare che anche quest'anno l'edizione sia tranquilla.